tesero chiude l'anno con 63 milioni di fondi comunitari pronto soccorso in crisi tra guardia medica chiusa e rinforzi carenti l'ital service si regala un palasport di proprietà splendido natale per la vis la vl prova a imitarla santo stefano una buona serata a tutti voi telespettatori di rossini tv e ben ritrovati a rossini news il nostro telegiornale serale in questa edizione di giovedì 23 di dicembre si chiude il 2021 il comune di pesaro si consegna al natale presentando una lunga serie di progetti in corso e in via di realizzazione per la città ottenuti con fondi comunitari fondi attraverso i quali il comune ha incamerato quasi 63 milioni di euro un risultato straordinario che è stato presentato oggi da gran parte della giunta riunita per l'occasione e che ci viene illustrato da daniele vimini che oltre a essere il vice sindaco è anche assessore con la delega proprio alla ricerca di finanziamenti comunitari e nazionali è stato un anno eccezionale imprevedibile l'anno scorso esultavamo e ne avevamo ragione insomma per due milioni e mezzo di finanziamenti ottenuti su vari su vari fronti quest'anno siamo in grado di moltiplicare per 25 quella cifra è chiaro che non è solo un dato numerico è un dato che ci fa capire che stagione straordinaria di investimenti potrà vivere la nostra città e il nostro territorio ancora non è finita perché innanzitutto queste cifre non contengono tanti investimenti ottenuti anche direttamente dal lavoro del sindaco con i ministeri con gli enti come gli 8 milioni per il rifacimento della stazione o i soldi per il palazzo di tendenza di finanza questi sono proprio quelli che abbiamo ottenuto attraverso bandi specifici i 30 milioni di regenerazione urbana di cui abbiamo già accennato ma che insomma vanno sicuramente in questa annualità come il recupero del san benedetto e tutto l'asse del centro storico di via mazza di castelfidardo e via passeri che sarà riconificato con i fondi pinqua i 5 milioni e oltre di riqualificazione per quello che riguarda rocca costanza i 5 milioni e mezzo per il conservatorio sappiamo quanto bisognino avesse anche qui è un bando del ministero dell'università che ci siamo giudicati prendendo l'ottanta per cento del finanziamento complessivo e tantissimi lavori appunto ai 20 milioni soprattutto che metteranno diciamo la parola fine i problemi strutturali e lanceranno completamente la funzione di palazzo mazzolari mosca attualmente sede dell'assessorato che sarà un palazzo sempre più aperto alle arti e all'incontro del san domenico proprio dietro le poste a mercato coperto del food ma anche a un luogo di incontri per quello che riguarda il chiostro che verrà recuperato e anche tutta la parte del piano del piano nobile che potrà essere destinato all'università e i corsi che arriveranno a pesaro e anche a altre funzioni pubbliche sia espositive che gli uffici per proseguire poi con altri 4 milioni e mezzo che andranno a completare le esigenze strutturali di riqualificazione del palazzo almericci sede della biblioteca oliveriana e la lista è ancora ulteriore però dalla misura prima ancora di accedere ai fondi specifici del PNR che riguarderanno in particolar modo le scuole ancora la cultura e la viabilità e anche interventi urbani di carattere importante però un dato veramente strato sferico di risorse che verranno a pesaro e quindi tra l'altro ricordare saranno soprattutto anche lavoro tanto lavoro per maestranze per aziende per imprese a tutti i livelli e purtroppo è un Natale di ansie per il pronto soccorso di pesaro che fra l'annunciata chiusura della guardia medica nei giorni festivi e prefestivi e fra i rinforzi di organico che tardano ad arrivare sarà chiamato a delle festività particolarmente critiche al pronto soccorso di pesaro è diventata un'utopia immaginare un sereno Natale quello che si può sperare è un Natale senza criticità troppo gravi ma anche questa è una speranza ricolma di ostacoli perché la chiusura della guardia medica di pesaro da parte della regione marche nei giorni festivi e prefestivi per carenze d'organico rischia di mandare al collasso il sistema nei giorni compresi fra la vigilia e santo stefano e i giorni di capodanno dopo la guardia medica già interrotta a novembre a gabice e montecchio scoprire il servizio anche a pesaro per ben 48 ore rischia di mandare al collasso un pronto soccorso dove inevitabilmente si dirotteranno le patologie lievi in uno scenario d'emergenza che già al collasso ci va molto vicino un pronto soccorso dove è diventato scenario quotidiano quello di lasciare in barella per giorni pazienti non contagiati dal covid ma che faticano ad avere un posto letto in reparti riconvertiti al virus le carenze d'organico sono poi in materia diffusa trasversalmente da una guardia medica che da 28 dottori si è ridotta a 8 a un ospedale Marche Nord che aspetta dei rinforzi che per ora restano solo sulla carta quelle di regione asur che hanno bandito concorsi di assunzione per 8 medici e 5 chirurghi da destinare anche al pronto soccorso quelle dell'azienda ospedaliera che ha bandito 8 assunzioni urgenti a termine per altrettanti medici fra i concorsi la quotidianità c'è però un lavoro ospedaliero in cui il personale attuale rischia di essere letteralmente sommerso fra ricoveri covid in progressivo aumento e l'inevitabile impossibilità strutturale a trattare in maniera adeguata altre patologie emergenziali no covid uno scenario drammatico con 25 medici allo contro i 40 che erano presenti un anno fa. Altra giornata che rinnova purtroppo il primato di contagi di questa quarta ondata di pandemia sono 871 i nuovi casi registrati oggi di covid-19 di cui 162 in provincia di Pesaro Urbino per una incidenza di contagio che continua a salire arrivando a 315 casi settimanali ogni 100.000 abitanti e purtroppo continuano a crescere anche i ricoveri 12 in più di ieri per una cifra di pazienti indegenza in regione che arriva a quota 228 di cui 39 in terapia intensiva e si contano anche altri 6 decessi 3 donne 3 uomini di età compresa fra 83 e 97 anni. Dai contagi ai ricoveri fino ai vaccini è ufficiale da lunedì 27 dicembre alle ore 10 nella regione Marche potranno prenotare la terza dose di vaccino anti covid anche i minorenni di età compresa fra 12 e 17 anni che hanno effettuato la seconda dose di vaccino almeno da 5 mesi. Le somministrazioni poi potranno partire già da martedì 28 di dicembre. Il nucleo ispettorato del lavoro assieme ai carabinieri delle compagnie di Pesaro, Fano e Urbino ha effettuato nei giorni scorsi una serie di controlli in 5 locali pubblici della provincia arrivando alla sanzione di due di questi in cui è stato trovato parte del personale lavorare senza essere munito di Green Pass. E' stato dunque sanzionato sia il personale che i gestori dei locali con due provvedimenti di sospensione dell'attività rispettivamente di 3 e 5 giorni. Locali che tra l'altro non avevano nemmeno organizzato procedure di monitoraggio delle certificazioni verdi. Non solo in 3 delle 5 aziende controllate sono stati trovati ben 5 dipendenti non in regola che lavoravano in nero. Per questo motivo sono state elevate sanzioni per 25.500 euro. L'azienda Tecnoplast, la scuola elementare Santa Veneranda e i neocampioni d'Italia della Lupo Baskin Pesaro. Il sindaco Matteo Ricci ha scelto oggi simbolicamente queste tre realtà per fare gli auguri di Natale a tutti i pesaresi. Oltre all'augure ai lavoratori della Tecnoplast il sindaco insieme all'assessore Giuliana Ceccarelli ha consegnato ingressi omaggio del villaggio di Babbo Natale in piazzale Matteotti agli alunni della scuola elementare di Santa Veneranda. Poi assieme agli assessori Belloni e Dell'Adora in comune ha anche applaudito la Lupo Baskin Pesaro laureatasi nei giorni scorsi campione d'Italia della disciplina del Baskin. Questa sera in prima serata alle 21.20 Rossini TV trasmetterà uno speciale dedicato al Natale che non ti aspetti. Le grande format di iniziative natalizie organizzate fin dallo scorso 27 novembre dalle proloco in tanti comuni del nostro territorio provinciale. Oggi ne abbiamo parlato con il presidente dell'Unione Proloco Damiano Bartocetti che è intervenuto ai microfoni di Rossini News per tracciare un bilancio al giro di Boa della iniziativa. Un bilancio che è parzialmente positivo nonostante la riduzione di presenze ma che in questi giorni convive con diverse incertezze alla luce degli eventi di fine anno e inizio 2022. Ma la situazione sicuramente pandemica è delicata. Stiamo monitorando come comitato provinciale assieme al prefetto e al questore di Pesoli Urbino l'evolversi della situazione e ci manteniamo in contatto per capire quali saranno le restrizioni future. È chiaro, noi puntiamo, adesso abbiamo un grande evento, la festa nazionale della Befana Urbana e avevamo previsto un evento di fine anno a Carpegna. Cerchiamo di capire quali saranno le restrizioni, se si potranno fare. Noi ci auguriamo di sì. Stiamo ragionando su questo. Diciamo che abbiamo avuto un grande successo che è andata veramente molto bene oltre le aspettative per una fase pandemica molto delicata che ha visto impegnati tantissimi volontari ma nello stesso tempo ha visto anche un ritorno economico nella nostra provincia pur essendo una situazione di difficoltà e quindi le presenze sono calate di oltre il 50% questo siamo onesti ma abbiamo fatto un grande lavoro di promozione che sicuramente raccoglierà i suoi frutti i prossimi anni. Aspettando gli eventi post natalizi ci sono stati quasi 20 giorni di tante iniziative accompagnate anche da un volano promozionale importante quello con Gianmarco Tamberi. Sì Gianmarco Tamberi il testimonia del Natale che non ti aspetti e lo vedrete in questi giorni su tutte le reti televisive nazionali e anche su tutte le radio e rappresenta le marche rappresenta il Natale che non ti aspetti perché il Natale che non ti aspetti è un progetto del comitato provinciale Proloco Pesorubino ma è un progetto che rappresenta tutte le marche perché i turisti non vengono solo a vedere i mercatini di Natale ma vengono a vedere le bellezze e le eccellenze delle marche grazie alla grande promozione. E qui un sincero e sentito ringraziamento al Presidente Francesco Acquaroli e alla Giunta, all'Assessore Francesco Baldelli e anche ai consiglieri regionali per il grande lavoro, per il grande supporto che la Regione Marche assieme anche al Direttore di Compartimento Dottor Raimondo Orsetti stanno dando un grande supporto alle nostre Proloco ma soprattutto in particolar modo un grande supporto al nostro territorio, al motore economico del nostro territorio, all'economia di tutto il comparto agro anche agroalimentare della nostra bellissima provincia che diciamo abbiamo delle eccellenze veramente culinarie di grande valore che possiamo ancora promuovere ancora di più grazie alla rete del Natale. E le immagini che vi facciamo vedere ora mostrano in anteprima il nuovo programma della Sonosfera di Pesaro che dal 24 dicembre al 9 gennaio proporrà uno spazio interamente dedicato al pittore Raffaello Sanzio messo a punto per il quinto centenario della sua morte. Si tratta di un'opera di innovazione linguistica digitale a 360 gradi costruita sul grande spazio di proiezione circolare per raccontare la storia del divin pittore. Un anfiteatro avanguardista che non sarà solo visivo ma anche uditivo visto che si potrà ascoltare la decifrazione musicale dei livelli simbolici negli affreschi, il suono degli strumenti dipinti e degli elementi naturali. Ricordiamo che la Sonosfera sarà aperta al pubblico tre giorni alla settimana, venerdì, sabato e domenica, prevedendo quattro turni giornalieri con un massimo di 15 spettatori a turno dotati di green pass rafforzato. Il progetto è stato completato da Simone Sorini e David Monacchi che insieme ad un team di musicisti e artisti digitali ha potuto dar vita a questa straordinaria realizzazione tecnologica. Come ogni anno la Fondazione Filippo Fattori ha conferito premi a studenti delle scuole medie superiori della provincia che pur portatori di affezioni di rilievo hanno frequentato con profitto l'anno scolastico 2020-2021. Sono 57 i premi assegnati per un ammontare complessivo di 20.000 euro. 25.000 euro. 26.000 euro. Dott. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Praticamente l'Ital Service sarà la prima società che avrà un palazzetto dello sport di proprietà, quindi abbiamo un palazzetto di proprietà, quindi ci svincoliamo da tutto e da tutti, quindi non avremo più bisogno di nessuno. Sarà proprietà dell'immobiliare nostra di famiglia, quindi si allenerà solo, giocheremo solo a calcia 5, una mossa molto importante per valorizzare uno sport, per valorizzare quella che è una nostra passione, a cui teniamo tantissimo, quindi avere un palazzetto dello sport di proprietà, quindi non dovremo chiedere niente a nessuno, si alleneranno il settore giovanile, si alleneranno i ragazzi, vi allenerete voi, probabilmente giocheremo lì qualche partita di campionato, Adesso stiamo valutando insieme al comune di Vallefoglia e quindi il discorso di questo sponsor, vi anticipo, è legato anche alla costruzione di questo palazzetto dello sport, una struttura importante, tarata per avere più di mille posti e quindi qualcosa di notevole. Io penso che non è che ci siano tante società che abbiano strutture di proprietà, questa riprova che comunque a maggior ragione vorrei sottolineare che comunque la volontà nostra è quella di andare avanti, perché è un investimento importante. Applausi scroscianti per la notizia in mezzo ad un pranzo di ringraziamenti, auguri, regali ed incitamento, quello che la dirigenza ha rivolto alla squadra per un brillante 2022. Noi sappiamo di poter contare su gente come voi che non darà il 100% ma il 110, poi le partite si possono perdere, la palla dicono sia tonda, ci sono gli episodi, ma noi partiamo con una certezza che voi date tutto, lo avete dimostrato nelle difficoltà, più difficoltà avete più siete forti, più siete un gruppo, più siete una famiglia e questa è la cosa più bella che a gente come me, Giovanni, Alberto che adesso non c'è, ci fa soddisfazione. Continuità societaria, crescita infrastrutturale e una pancia di vittorie sportive mai sazia, questi i buoni propositi per l'anno nuovo dell'Ital Service. I buoni propositi sono la speranza di vincere tutto, quindi queste sono le nostre aspettative, adesso il 4 gennaio abbiamo una Supercoppa Eboli, dobbiamo andare a giocare a Eboli, poi ci sarà Coppa Italia, poi ci saranno i playoff, noi speriamo, noi siamo convinti di quello che facciamo, siamo molto soddisfatti, abbiamo un grandissimo gruppo, un grandissimo allenatore, un grosso staff dirigenziale, quindi siamo molto ottimisti e molto fiduciosi, e speriamo di arrivare in fondo a tutte le competizioni, adesso al di là noi scherziamo sempre con Giovanni Baldelli, con Moreno Bordogna, Alberto Pieri, con mia moglie Simona, scherziamo e diciamo vogliamo vincere tutto, questo è quello che noi ci prefiggiamo e ci proponiamo, poi dopo chiaramente cerchiamo di fare del nostro meglio, noi ci siamo, un ringraziamento a tutti i tifosi che continuano a venire a vedere l'Ital Service in maniera costante a Sido, quindi un grosso auguro a tutte le persone che comunque ci vengono, ci hanno sempre sostenuto, ci sostengono, al gruppo dei nostri tifosi, quindi questa è la nostra passione che coinvolge una città. Dal Little Service passiamo agli altri sport, ad esempio alla Vispesoro che si regala anch'essa uno splendido Natale, dopo che ieri ha battuto 2 a 1 il Siena al Benelli nell'ultimo atto calcistico dell'anno 2021. La VL spera invece di regalarsi un sereno capodanno dopo che la sera di Santo Stefano sarà in trasferta sul campo dell'Eppi Casa Brindisi. Difficile immaginare un Natale migliore per la Vispesoro, che nel turno infrasettimanale prefestivo batte 2 a 1 il Siena, pulisce in tre giorni la sconfitta nel derby di Ancona e chiude il 2021 all'ottavo posto in classifica con la confortante quota di 27 punti. In piena zona play-off, 8 punti distanti dai play-out. Vittoria incredibile della Vis che costringe la nobile decaduta Siena alla sesta sconfitta consecutiva dopo che i Toscani hanno giocato un buon calcio. La Vis gestisce però la fase critica e passa al primo tiro, quello di Marcandella deviato dalla difesa alle spalle della porta senese. Nella ripresa pareggia il Siena con Favalli e poi sbatte su Farroni. Il portiere Vissino è monumentale nel mettere in fila tre parate che tengono in piedi una Vis che poi fa il colpaccio nel finale. Grande azione di Giraudo per l'assista dei Respinis che fa 2 a 1 al novantesimo. I ragazzi si aiutano, ci credono e questa è la mia prima vittoria. Sono stati strepitosi, oggi siamo contenti perché insieme ai nostri tifosi in casa possiamo festeggiare un sereno Natale e soprattutto possiamo guardare al futuro con l'ottimismo che ci ha contraddistinto sempre finora. Penso che in questo girone dopo le prime 6 big, se sei al settimo, ottavo posto, stai facendo qualcosa di stratosferico. C'è grande competizione, bisogna avere continuità per riuscire poi a ritrovarsi nelle posizioni che contano più avanti, per quello che dico che non la guardo. Oggi è una partita in casa contro un avversario che all'andata ci aveva fatto fare una brutta figura. Avevamo questa anche determinazione aggiuntiva. E penso, ti ripeto, che i ragazzi sono stati strepitosi perché ci devi credere. Se vuoi le cose ci devi credere, non devi mai smettere di crederci e soprattutto è proprio quello che poi alla fine le fa cadere. Quindi il merito è veramente dell'atteggiamento e dopo arrivano tutti i contenuti. Si chiude con una sconfitta un 2021 orribile per l'Alma Juventus Fano che perde 1-0 in casa della molisana Vasto Girardi e resta in una zona pericolosa della classifica di Serie D. Il calcio tornerà in campo l'8 gennaio, mentre nelle feste giocherà il calcio a 5 con l'Ital Service in campo a Ciampino il 28 dicembre. Nella domenica di Santo Stefano invece in campo la Megabox Valle Foglia, nel campionato di pallavolo femminile con la squadra di Bonafede impegnata in trasferta a Roma con l'Acqua e Sapone. Trasferta di Santo Stefano anche per la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro che domenica alle 18 sarà in terra pugliese contro l'Eppi Casa Brindisi. Un match presentato oggi da coach Luca Banchi presso lo showroom Aster in piazzale Garibaldi. Ieri hanno un allenatore straordinario, un ambiente, ne ho parlato ieri con Elisabetta, unico che riesce veramente a coccolare la squadra, abbracciarla, supportarla. Quindi poi alla fine Brindisi è destinata a essere là e come è suo solito diventare una di quelle avversarie pericolosissime da affrontare soprattutto nelle gare secche. L'attacco è uno dei più prolifici della Serie A, quando vincono addirittura sfiorano quasi 90 punti segnati a partita. Sono tra le migliori squadre al tiro da 3 punti, soprattutto guardi e numeri, 10 giocatori al referto e ognuno di loro ha più di due tentativi da 3 punti dall'arco. Si parla di centri, ali forti, non soltanto di guardie. Quindi immaginati la tipologia di sforzo difensivo che serve per contenere una squadra che gioca con questo ritmo, con questo talento e questa capacità anche di distribuire pericolosità. È una delle migliori anche negli assist, quindi significa avere giocatori creativi e ottimi finalizzatori. Altrimenti questi numeri dopo quante partite abbiamo fatto? 12, 11, 12 partite. Sai, queste cominciano a rappresentare una tendenza, non è più il caso. E con lo sport si conclude qui questa nostra edizione delle telegiornale Rossini News. Prima di salutarci vi ricordiamo qualche appuntamento di questa sera ma anche della vigilia di Natale. Cominciamo dalle 20.10 di questa sera, 23 dicembre, con questo argomento prettamente natalizio, il magico trenino di Babbo Natale che attraversa Tavuglia, questo format chiamato prossima fermata Natale che potrete vedere alle 20.10. Ve lo abbiamo anticipato nel Tg, ne parleremo questa sera alle 21.20, le iniziative natalizie delle proloco della provincia di Pesaro Urbino con il Natale che non ti aspetti. Vedete in grafica il nostro Paolo Pagnini che per l'occasione ha tracciato un bilancio dell'iniziativa con Damiano Bartoccetti, presidente provinciale dell'Unione delle Proloco. L'informazione di Rossini TV torna anche la vigilia di Natale con la rassegna stampa del mattino. Buongiorno Rossini, come sempre in diretta alle 7.20. A tenervi compagnia ci sarà Antonio Astuti e poi le repliche anche alle 8.20, alle 12.30, alle 14 e alle 18.00. E proprio la mattina del giorno di Natale comincia anche Rossini Kids, una Christmas Edition dedicata ai bambini con tante iniziative da gustare, dalle canzoni a speciali animazioni dedicate ai più piccoli che potrete vedere tutti i giorni alle 10 e alle 19 dal 24 dicembre al 6 di gennaio. Ed è davvero tutto per questa nostra edizione delle telegiornale Rossini. Da parte mia non resta che augurarvi buona serata e soprattutto buone feste in compagnia dei programmi di Rossini TV.